Siamo qui a dibattere di contaminazione di acqua, bene prezioso, indispensabile al nostro vivere quotidiano, di cui molti di voi sono stati privati per molti giorni, con il padimento di enormi disagi. Su questo aspetto riprenderò il discorso dopo, prima vi voglio parlare di un altro risvolto di questa vicenda. Il titolo sarebbe il classico, scusate ma io non sono posizionato su altre altezze. Il titolo sarebbe il classico, dopo il danno anche la beffa. Mi riferisco alla comunicazione che ha accompagnato questa vicenda. Tale comunicazione è stata parziale, spesso tardiva e in qualche caso passibile anche di censura. Abbiamo ancora una volta assistito al solito terratino del rimpallo di responsabilità vere o presunte. È purtroppo vero che in un paese dove la gestione della cosa pubblica è fidata a tanti diversi soggetti e aggiungo troppi, la responsabilità della fine risultano di nessuno, con grave danno per i cittadini. Comunque sì, la comunicazione è stata complessivamente deficitaria e dei esteriatari della stessa, voi che siete in sala, se non sono sentiti prese in giro. Ho avuto modo in questi giorni di parlare con alcuni di voi e questa situazione era palpabile. ho seguito, oltre che parlando con voi, anche la situazione sui social network e proprio di un episodio che è accaduto su Facebook, vi voglio parlare. Meno male che ritorna al sindaco perché poi la domanda è posta a lui. Allelamentare di una cittadina? Questa è stata la risposta al profilo Facebook del Comune di Pietrasanta. Ve la leggo testualmente. Signora Barbara, siete lei e la sua clac che fate finta di non capire quello che è successo e volete accusare l'amministrazione per responsabilità che non ha. Si vergogni lei e valuti bene quello che dice, perché anche questo comporta delle responsabilità. L'amministrazione comunale ha sempre preso decisioni in base ad analisi fornite da chi ha la responsabilità di farle. E le decisioni per quanto riguarda la gestione degli acquedotti, la distribuzione e i controlli spettano all'ente gestore e all'unità sanitaria locale. Il sindaco interviene con ordinanza a tutela della salute pubblica sulla base appunto delle segnalazioni dell'azienda sanitaria. Lo ha fatto immediatamente. Nessuno può accusare qualcuno di responsabilità che non ha, nella migliore delle riposte di strumentalizzazione, nella peggiore diffamazione. Qui finisce l'invettiva che oltre a contenere il rimpallo di responsabilità di cui parlavo un po' che anzi, qui finisce l'invettiva, comunque qualunque cosa vi rispondo, allora non conteneva niente di offensivo e comunque, ora finisco il pensiero e poi vi rispondo, qualunque cosa contenesse, un conto è quello che dice un libro cittadino, poi le querele si fanno e non si annunciano perché annunciano in minatorio. Dove va bene come risposta? Qui finisce l'invettiva che oltre a contenere il rimpallo di responsabilità di cui parlavo poco, anzi, contiene un tono minatorio inaccettabile. Su questo episodio chiediamo al sindaco Lombardi per cose. Di esprimere la propria condanna sull'accaduto, le scuse per la signora Barbara e di sollevare la persona che ha scritto tale risposta da tale funzione. Chi parla e scrive per conto pubblico non può e non deve permetterci un tale linguaggio. C'è poi il capitolo delle responsabilità su questa vicenda. Tralasciando le questioni tecniche, che mi sembra che stasera siano state, come dire, ampiamente disciplinate, esistono due tipi di responsabilità. Dalla prima è quella giuridica. Per quella esiste una magistratura, nella quale dobbiamo nutrire tutti la massima fiducia, che svolgerà il suo compito accertando se ci sono o meno responsabilità. I processi si fanno in tribunale. E questa non è la sede. Per cui lasciamo che il giudizio a chi ne è di competenza. Altro invece è la responsabilità politica, che è la valutazione delle scelte che gli ordini coinvolti in questa vicenda hanno messo in atto. A questo giudizio siamo chiamati tutti. A cominciare da cittadini che hanno il dovere di esprimere la propria opinione. La nostra, come illuminiamo il nostro futuro, è molto netta. In questa vicenda la responsabilità maggiore c'è la Gaia. Quale ente, gestore del servizio, aveva il dovere di approfondire la questione, alla quale, come è noto, era a conoscenza da tempo. Forse non l'avete fatto caso, ma la relazione del professore parla già del 2013, coinvolgendo in questo percorso Comune e S.L., rendendo pubbliche cause e proporre soluzioni prima che la bomba esplodesse. Questo non è stato fatto. Chiediamo pertanto che i comuni soci di disporre un'immediata valutazione dei comportamenti della direzione agendale e del management per accertare, al di là delle norme, se l'operato su questa vicenda sia stato improntato da un sufficiente e corretto criterio prudenziale atto a garantire la salvaguardia della salute dei cittadini. Per la questione delle bollette, anche lì sarò molto netto, noi pensiamo che la sospensione non vada bene, che ci voglia l'annullamento delle bollette, perché nessuno, se qualcuno vi fa un lavoro che è sbagliato, io penso che nessuno si pensi di poterlo pagare. In questo caso l'acqua che arrivava nelle case non era un'acqua che si deve pagare, secondo me. Anche se la responsabilità di comune azienda sanitaria appaiono inferiori a quelle di Gaia, chiediamo a entrambe di attivarsi per organizzare dei presidi congiunti, atti a prevenire situazioni come queste, di realizzare delle sinergie di collaborazione che nel ventunesimo secolo dovrebbero essere prassi normali tra enti pubblici. E qui non sono d'accordo, l'ultima parte la dedico una premissiva al Presidente Rossi, spero che l'assessore Bramerini mi faccia da tramite, la ringrazio fin d'ora. A differenza di quello che ha detto l'amico Stefano, a noi il comportamento dei dirossi non ci è piaciuto di sabato, la sua visita a Val di Castello non ci è piaciuta, nella forma e nel contenuto, lasciato intendere di essere poco informato su una vicenda segnata da un'ordinanza sindacale di oltre 40 giorni. si è scocciato di trovarsi di fronte a 100 persone, 100 cittadini peraltro, ha offeso verbalmente il sindaco davanti ai suoi cittadini e la sensibilità di quegli stessi cittadini che pensavano fosse venuta a portare soluzione al problema del taglio. Attendiamo con pazienza le risposte promesse, ce ne ricorderemo quando verrà lei a chiederci qualcos'altro, ultimissima cosa ma quasi una curiosità, ho visto un video delle Iene in un intervento del Presidente Rossi nel consiglio mi pare provinciale di Massa Carrara, peraltro il giorno o due giorni dopo quando era caduto il muro, chi l'ha messo lì comunque l'ha messo male, ve lo dico, il contesto si riferiva appunto al crollo del muro sul ciume Carrione e cito testualmente quello che ha detto il Presidente, ve lo dico brutalmente rivolgendosi alla sala, o si è complici, o si è incompetenti, o si è ladri e finisce la citazione, per cui chiedo al Presidente Rossi che tra le risposte che doveva darci su questa vicenda ci dica anche quale di queste tre è la realtà dei fatti di Pera Santa, vi ringrazio. Sarebbe da dire molte cose ma credo che debba prevalere il senso dell'equilibrio e della costruzione più che della distruzione, la campagna elettorale si farà in altri luoghi e non su queste vicende, questa è la mia posizione e la linea che tengo fermamente finché ricopro questo ruolo. Circa la questione specifica devo dire che sull'uso di Facebook in modo particolare si è letto di tutto e di più. Probabilmente l'atteggiamento psicologico con cui ci si confronta su Facebook pone e non pone limiti a dei freni di non solo educazione ma anche di offese gratuite, alcune delle quali decisamente gravi sotto il profilo legale, sotto il profilo di assunzione di responsabilità. sapete che in vita mia non ho fatto mai una querela e un esposto e certamente non è questa l'arma del confronto. L'ho fatto decisamente su questa questione con il senso di dare un segnale preciso a quello che deve essere l'equilibrio e l'attenzione di quando su questioni così delicate ci si pone all'attenzione pubblica come il Facebook rappresenta. Quindi nello specifico rileggerò con attenzione tutto quello che è stato lo scambio di corrispondenza ma su questa questione so per certo e Tartarini non lo ha letto non lo ha letto e non è questo il modo corretto con cui ci si approccia si legge quello che uno scrive e si legge la risposta non si può decapitare quello che uno ha scritto e leggere solo la risposta non è un metodo serio, non è un metodo costruttivo e soprattutto non è un metodo giusto circa le responsabilità sono perfettamente d'accordo che